Ma chiamo fuori per insistere Astral 2 Eternum, per cucinare a pressione naturalmente Ha presentato questo film Sono Antonietta Grieco, da 23 anni abito in Svizzera Sono operaia e faccio un caloroso abbraccio a mia socia A mia socia di Mora di Sanctis E un caro abbraccio anche a mia mamma e a mia sorella Che abitano a Tavriziano Rolling, gli occhiali Presenta Chuck Grazie a tutti Grazie per la visione!